Salve ragazzi bentornati o benvenuti sul canale di noi malati di foot Benvenuti nella doppia play e review di Gakpo e di Higuain Fine di un'era Gakpo, potmo, ottobre dell'eree divise Però prima di iniziare questa doppia review Regalate un bel mi piace, commentate e commentate quando vi vedete Soprattutto iscrivetevi al canale Ti vediamo la funzione della campanellina E qui in descrizione, andrete link a nostri social Con i Facebook, Instagram, gruppo, Telegram, canale, Twitch Gakpro, qua la piede, si scatta l'inserimento Inserimento molenno Vai Gakpro, sei un fulmine al ciel sereno C'è 86 di tiro Gakpro Niente Il Pipita, Higuain, il tiro da lì Il Pipita, si è inserito il tiro del Pipita sul portiere Ci ha messo un po' a stoppare Gonzalo Higuain Gonzalo Recuperi? Recuperi? Non recupera Il Pipita, Gonzalo Higuain, tutto solo da lì Perché ha tirato così? Da tirare da esterno o di destro Forse non c'è questa capacità di tiro Vai Gakpro, Gakpo Non è Gakpro, Gakpro, Gakpo, Gakpo Gakpo Il Pipita, Gonzalo E Higuain, ho fatto qualcosa in più Gakpo, Gakpo, il tiro, parata Higuain sulla ribattuta Grande Higuain, il tiro La parata di Donnarumma Higuain, il tiro Il gol del Pipita Questa dovrebbe essere forse la terza partita che lo provo Perché una l'ho provata senza registrare E un'altra Comunque secondo me Higuain Vabbè ve lo dico dopo Bello il Pipita con l'inserimento da dietro Però forse ha perso il passo No, non l'ha perso il passo Non l'ha perso E' fatta andata a segnare Il Pipita Il Pipita ancora? Si è inserito? Eh no, si è allungato Gakpo Dritto per dritto Gakpro Bello l'inserimento del Pipita Qua in Eh beh Tu sposta il portiere Io ti tiro dove non sta il portiere Farlo di nuovo a spostare il portiere Mi raccomando Che geni Vai il Pipita Ancora l'inserimento Eh beh Segna sempre il Pipita Eh Direi che segna A meno quello sicuramente Grande Bonsano Vai Higuain 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 Che stop A seguire Che tiro D'esterno Vai ancora Higuain Higuain Bravo Oh mamma mia Vai Gakpo Sulla fascia Supera tutti Gakpo Eh Niente Però È veloce lì Partiamo da Gakpo Mi confondo sempre Lo chiamo sempre Gakpro E non Gakpo In realtà si chiama Gakpo È un esterno Anzi La precisione è un'ala Sinistra E redivise PSV Olandese Alle stats Abbastanza interessanti Per essere comunque Un'ala Ma in realtà L'ho usato come esterno Visto che è il suo Secondo ruolo Non abbiamo la possibilità Di cambiare Lo stile di corsa Che è unico Ed è controllato Ha una buona velocità Preferisco Vinicius Unor Comunque Sulla velocità In gola fascia Quindi Va bene Velocità buona Però non Assolutamente Un pro Il tiro Invece Non mi ha fatto Nemmeno un gol Però Ha un 86 di tiro Che può aiutare Tantissimo Le nostre occasioni Da golle Ci permetterà Di fare I gol Comunque Ma io ho fatto Quattro partite Con lui No Tre partite Sì è vero Guaino Quattro Ha un buonissimo Tiro dalla distanza Come la potenza Tiro Il passaggio È un'altra qualità Che secondo me Va benissimo Per un alo O per un esterno Perché ci consente Di non fare Troppi errori Anzi In realtà Non fa tantissimi errori E Non mi ha dato Quella sensazione Di insicurezza Quando va a fare Il passaggio Ah un'altra cosa Questa è la sua Seconda versione Potm Ha avuto Una versione Potm A settembre E un'altra Ottobre Quindi Due volte Di fila Bravo Gakpo Dribbling Non mi piace molto L'equilibrio Purtroppo si sbilancia Non va Benissimo Però Tutto Quell'altro Del dribble Tutte le altre Caratteristiche Del dribbling Vanno bene A parte appunto La freddezza Dribbling Ho due stelline Colpo di testa Lasciamolo perdere Ha una resistenza Abbastanza buona Una forza Buona Comunque 83 Ragazzi Principalmente Ve lo consiglio Come ala E esterno Un po' meno 4 di skill E 4 di piede debole Queste Vanno benissimo Secondo me Altezza 189 Worker Salto normale Caratteristiche Abbiamo Tiro di precisione Tiro di esterno Leader Delibliatore Tecnico Provata con due punti Stile intesa Con stile intesa Base In questa squadra Dove non è stato veramente facile Poterlo inserire E lo stesso vale per Iguain Come alternative Per Gakpo Vinicius Junior Tra tutte Manè Vi dico altre leghe Perché Nelle redivise Vabbè insomma Chiese Magari anche Son Volendo Con indice di Ibridabilità Da 1 a 3 Redivise Olanda PSV Al massimo A mezzo punto Per l'eredivise Per l'Olanda Un punto Per PSV Le redivise Un punto e mezzo Uno Uno e mezzo Come prezzo Stiamo sui 42-43 Non è altissimo Però vi consiglio Di farlo Con i non scambiabili Ma Venendo alle conclusioni Per questa carta Il mio voto Per Gakpo Secondo Potm È un 6.5 Onestamente Sulla fascia Preferisco Vinicius Junior Base Andiamo al Gonzalo Higuain Fine di un'era Una bella carta Peccato un po' Per la sua Lega Onestamente parlando Abbiamo Una velocità Non male Interessante Il tiro invece Il suo Miglior Colpo Sa tirare Benissimo Anche abbastanza bene Dalla distanza A potenza tiro Sa finalizzare Anche se è 87 In carta Ragazzi Sa finalizzare Non abbiate timore Quattro partite Otto gol E addirittura Un assist Anche un buonissimo Passaggio Che ci consente Di evitare Troppi errori Magari Quando dobbiamo Giocarcela In avanti Con i nostri Attaccati Con le nostre punte Questa è una cosa Che a me Va benissimo Onestamente parlando Dribbling Allora Purtroppo È un po' Macchinoso Però Ha un buon Controllo palla E Freddezza Ragazzi Sa essere freddo Quando ha la palla Se viene sotto Se viene marcato Qualcuno Riesce a tenerla bene A gestirla bene Tu per tu Riesce a gestire bene Quelle occasioni Quindi va benissimo A parte la macchinosità Però va bene Quattro di skill E quattro di piede debole Di base Sono Due pro Ha anche un buon colpo di testa Onestamente parlando 87 in salto 89 in precisione di testa 87 in forza È abbastanza forte Fiscamente Peccato un pochino Per l'equilibrio Non ha tantissima resistenza E me Però In lui Possiamo cambiarli Lo stile Non possiamo cambiarli Allora Ragazzi Stile di corsa Allungato Di base Senza stile intesa Se li vogliamo cambiare In controllato Per un X motivo Li possiamo mettere Motore Finalizzatore O artista Onestamente parlando E anche secondo I voti di footbin Uno degli stili più consigliati È cacciatore Assolutamente d'accordo Perché? Perché abbiamo bisogno di aumentarli Ancora di più la velocità Che secondo me Non è male Ragazzi Quando a campo aperto Corre Ragazzi E l'avete visto anche nelle clip Però aumentarli ancora Non sarebbe male Con cacciatore Andiamo sul sicuro Come caratteristiche Punizioni potenti Tiro ad esterno Ci siamo Come alternative Allora Nell'MLS Ma Non ce ne sono tantissime Invece Nelle altre leghe Un Donovan Hero Volendo Nelle altre leghe Possiamo trovare Anche Un Un Rushford Potmo Vabbè Un Qua ci starebbe bene Un Lautaro If Volendo Abbiamo anche Un Gerardo Moreno Road to knockout Gabriel Jesus One to watch Ci sono delle alternative Ronaldo Anche volendo C'era 7 Con indice di I Vendabilità Da 1 a 3 2 Massimo Ma nemmeno 1 e mezzo 1 per l'argentina E mezzo Per il campionato E squadra Insomma 1 e mezzo Abbiamo Un alto Basso di Workets Che a me piace Tantissimo Tantissimo Ma venendo Dalle conclusioni Il mio voto Per questa Carta Ragazzi Non è male Se siete fan Lo potete mettere Un po' difficile Da ibridare Onestamente Parlando L'ho messo Qui Ma ho dovuto Mettere un terzino Di headling Se avete fatto Di headling Story Gli do Un 8.5 Ma ditemi voi Cosa hai pensato Di questa carta Di queste review Se vi sono piaciuto C'è un mi piace Un commento Una condivisione Con giurispo Vi saluto Vi ringrazio Ciao belli